buongiorno amici oggi si va a gardala tappa colazione grazie magico tunnel ciao bravo e stiamo dentro bene prima trazione andata aspettiamo quasi per entrare appena fatto sta roba qui tra posta ricca paura adrenalina mille abbiamo appena finito di mangiare e come sempre ho dimenticato di registrare quello che ho mangiato perché sono sempre affamato e adesso andiamo a fare un po' in giro a vedere cosa a Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.